benvenuti al meteo il maltempo continuerà al sud lunedì giungerà aria piuttosto fredda da est ma in arrivo anche l'alta pressione le condizioni meteo restano però perturbate al meridione a causa di una persistente zona di bassa pressione che riceverà ulteriori apporti di aria fredda si potrebbe riassumere così il tempo dei prossimi giorni ma andiamo con ordine ecco le previsioni per domani sabato 10 marzo al nord e al centro condizioni di stabilità e quindi di bel tempo con temperature in rialzo al sud instabile con la sola esclusione della puglia garganica e della campania dove il tempo resterà variabile per l'intera giornata altrove non mancheranno piogge sparse anche in forma di rovescio o temporale sulla calabria e più marcate sulla sicilia sulla campania domani sofferà il grecale che spingerà masse di aria umida e moderatamente fredda proveniente dall'europa orientale tempo previsto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibili schiarite parziali in prossimità delle coste e sulle pianure delle province di caserta e napoli sulle altre zone le nubi saranno più estese e causeranno piogge più frequenti nell'entroterra salernitano sulla provincia di avellino e sul cilento temperatura stazionaria venti moderati mare mosso ciao 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 ciao